Ciao polpette, da un po' che non posto video nella pagina o sul canale questo perché? Perché come vi avevo accennato ho avuto dei problemi familiari, delle salute e in più ho perso l'ispirazione dovete sapere che quando io perdo l'ispirazione per dei video vado nel panico e sento il bisogno di prendermi delle pause perché a certe volte, non lo so, penso cose strane tipo che dovrei smettere o non so cosa ma comunque non smetto e fortunatamente anche stavolta è tornata l'ispirazione quindi sono qui e provo a fare un nuovo video questo è uno dei quei video che dedico a voi ed è il secondo in cui racconto una delle vostre storie come sapete potete scrivermi nella pagina quando volete raccontarmi la vostra storia in modo tale che io vi dedichi un video vi diare consiglio, almeno ci provo e così che anche le polpette che guardano il video possano commentare e darvi consigli come faccio io comunque rendemose conto del fatto che ancora non è cominciato l'inverno e già c'è il suo buio purtroppo non ho abbastanza soldi da potermi comprare la luce del sole vi leggo la storia di un ragazzo che mi ha scritto ieri e che viene un po' abolizzato da sta gente del cazzo che c'è a scuola ciao, prima di tutto sono un tuo grande fan ti iscrivo per dirti che mi serve aiuto il mio nome è Samir e si pronuncia Samir ultimamente mi sta crollando il mondo addosso oggi un mio amico ha detto davanti a tutta la classe lui è orecchione e tutti a ridere non puoi capire come sia stato vergognoso mi sono sentito così inutile così arrabbiato con me stesso giuro non so cosa fare potresti darmi un consiglio sei molto esplicita su questi argomenti e dai ottimi consigli ma vorrei un consiglio personale cosa dovrei fare? non voglio essere umiliato ancora una volta ti prego dammi un consiglio perché giuro non saprei cosa fare ti assicuro che non sono gay mi trattano così solo perché sono molto timido e ho solo amiche femmine cosa posso fare? ti prego aiutami a volte ho tentato il suicidio ma la paura mi ha sempre fermato ti prego aiuto spero che avrò un tuo consiglio al più presto perché così non riesco ad andare avanti essendo che tutti mi dicono di evitarlo ma ti assicuro che non è facile grazie in anticipo ti adoro e sei forte grazie Samir per tutti i complimenti per cominciare proprio perché pensi che io sia molto esplicita ti dico in modo esplicito che non è tanto intelligente reputare amico una persona che ti sputtana in questo modo per quanto sia difficile credere al fatto che sta gente non sia proprio tanto nostra amica noi dobbiamo sforzarci e decrete a sto fatto perché chi cerca di renderti la vita impossibile non è tuo amico anzi radisce la tua fiducia e tu lo devi buttare fuori dalla tua vita non sei gay perfetto sei chi vuoi essere la parola ricchione la reputo molto negativa è una di quelle parole che vi inventate voi persone che sapete solo prendere per il culo e lo scopo della vostra vita è proprio prendere per il culo la gente che apparentemente sta bene con se stessa e voi non sta bene sta cosa quindi dovete per forza far crollare queste persone oppure non vi sentite bene con voi stessi perché dovete essere così coglioni non lo so perché dovresti prendertela con te stesso soltanto perché la gente è stupida e non ragiona quando parla queste sono persone che danno semplicemente fiato alla bocca perché non hanno niente da fare ti parlo per esperienza personale anche io venivo bullizzata anch'io pensavo a queste cose al suicidio non volevo vive e adesso ne parlo veramente con semplicità perché dopo aver affrontato tutte queste cose mi sono resa conto del fatto che nel mio piccolo io posso cambiare la società per questo ho cominciato a fare video ho cominciato a esprimere la mia opinione in modo più aperto a tutti quanti l'ho fatto perché voglio cambiare il punto di vista delle persone e io credo che ognuno di noi possa cambiare questi modi di fare delle persone che so persone queste che non è che non hanno cervello anzi se l'ho detto mi correggo hanno il cervello spento tu che devi fare? devi andare a queste persone quando ti insultano di nuovo o ti fanno piastra voglia di morire e dirgli sì io sarò pure timido tu c'hai il cervello spento perché non l'accendi ogni tanto? perché queste persone hanno questo cervello che sta in pausa da talmente tanto tempo che se sono pure dimenticate come si fa a accendere o a farlo tornare in uso tu svegliale sveglia queste persone e non sta zitto davanti ai problemi perché se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che quando la gente ti dice evita sta gente schifosa che ti prende in giro sbaglia perché tu non devi evitare i problemi non devi evitare le prese in giro tu a testa alta devi affrontare le persone e devi affrontare tutto ciò che c'è di negativo nella tua vita e questa gente fa parte proprio di quel gruppo di cose negative che nella tua vita non dovrebbero esserci devi essere te stesso devi essere forte non devi prendertela con te stesso soltanto perché sei timido perché esistono persone di ogni genere non è che sei l'unica persona timida sulla faccia da terra pure io so timida molte volte so sia timida che non timida dipende dalla situazione ma ciò non significa che io sia sbagliato o che tu sia sbagliato ciò significa che siamo come dobbiamo essere no? perché sennò che mondo sarebbe senza persone varie senza persone diverse tra loro affrontali i problemi affronta queste persone e se c'è solo una cosa che devi cambiare di te stesso è quest'idea che hai nei confronti di te stesso perché ti ripeto come dico praticamente ogni giorno che ognuno di noi merita di stare qui se no non ci starebbe nessuno sul mondo se no sarebbe un mondo deserto senza gente senza persone diverse tra loro se ci sei devi esserci smettite di pensare sui cidio perché non è la soluzione te lo ripeto mettitelo in testa questo è ciò che posso dirti e non sarà un consiglio assoluto universale ed eccelso però è quello che farei io se fossi nella tua situazione anche perché sono stata nella tua situazione devi essere forte devi stringere i denti andare avanti perché ti assicuro che tutte queste cose brutte che capitano finiranno te lo dice una che le cose brutte ne vive però è certa del fatto che prima o poi migliorerà tutto devi pensarla pure tu così prima o poi migliorerà tutto e avremo ciò che meritiamo perché meritiamo tanto ognuno di noi merita tanto e già il fatto che stiamo su sto mondo ci fa capire che meritiamo tanto ma ci sono persone che purtroppo tengono si ostinano a tenere questo cervello spento e credono che l'unico modo per essere felici sarebbe prendere per il culo qualcun altro non è così non sarei belli quando viene per culo la gente però purtroppo siete testardi dei coach Samir ti mando un bacio ti saluto ti si ama se avete dei consigli o delle esperienze da raccontare a me a Samir scrivete qui sotto nei commenti oppure inviatemi un messaggio e parlerò delle vostre storie nei video vi si ama di nuovo e mettete mi piace se vi va condividete iscrivetevi e ciao